Sant'Antonio di Padova Seconda parte I pesci in ascolto La prima città in cui Sant'Antonio cominciò a predicare fu Rimini e fin dall'inizio il successo della sua predicazione mise in allarme gli eretici della città. C'era Colà, infatti, e Fioriva, la sette eretica dei Patarini. Erano accesi e ostinati contro parecchie verità della fede cattolica e vegliavano perché non ci fosse chi li disturbasse nei loro errori. Quando gli eretici si accorsero che Sant'Antonio smantellava a colpi decisi i loro errori, anziché aprire gli occhi alla verità, si coalizzarono nella difesa dell'errore e nell'assalto a colui che voleva illuminarli. Si radunarono i capi della sette eretica e decisero di eliminare Sant'Antonio con il mezzo più semplice e concreto, il veleno. Lo invitarono a un pranzo, quindi per discutere insieme delle cose di fede. Antonio accettò ignaro di ogni trama, ma il Signore era con lui. A tavola, infatti, Sant'Antonio, prima di mangiare, benedisse tutto il cibo e poi mangiò tranquillamente, continuando a parlare della vera fede. Gli eretici lo guardavano, aspettandosi da un momento all'altro gli effetti del veleno. E invece, evidentemente, avevano dimenticato la promessa di Gesù ai suoi veri apostoli. Se berranno qualche veleno, non recherà loro danno. Fallito il tentativo dell'attacco a Sant'Antonio con il veleno, gli eretici tentarono di impedire la predicazione del santo con l'allontanamento delle persone. Si servirono di ogni mezzo, infatti, per tenere lontana da Sant'Antonio tutta la gente, allettamenti o minacce, accuse e calugne contro Sant'Antonio. Tutto era utile per arrivare allo scopo di impedire quella predicazione che martellava contro l'eresia. Ma Sant'Antonio aveva anche mezzi eccezionali per battere le mene degli eretici. Dalla sua intensa preghiera e penitenza, egli traeva il potere dei miracoli che fa smuovere le folle in ogni parte della terra. E uno dei suoi più celebri e pittoreschi miracoli fu certamente quello della predicazione ai pesci. Quando Sant'Antonio si accorse che la gente di Rimini lo guardava, con sospetto e si teneva lontana da lui, moltiplicò le sue preghiere e poi si mosse per andare a predicare ai pesci sulla spiaggia del mare. Fratelli pesci, disse il santo, venite voi ad ascoltare la parola di Dio che gli uomini si rifiutano di ascoltare. A tale richiamo, una massa di pesci si fece avanti sulla riva del mare e si raccolse davanti al santo in ascolto della sua parola. Erano tutti in ordine, tenevano la testina di fuori e a volte davano anche segni di assenso le parole di Sant'Antonio. Il prodigio produsse un'impressione enorme, naturalmente. La folla accorse numerosissima e gli stessi eretici rimasero sconvolti da un fatto così strepitoso e così significativo. Doveva essere davvero importante e prodigiosa la parola di Sant'Antonio se anche le creature irragionevoli correvano ad ascoltarlo. La lezione fu davvero salutare per tutti e da quel giorno Sant'Antonio poteva predicare con tutta la sapienza e con tutto l'ardore di cui era ricco per illuminare, convertire, richiamare e santificare le anime. Questa lezione vale anche per noi, vale per tutti gli uomini di ogni tempo. La parola di Dio è parola di vita eterna che va ascoltata con rispetto, va accolta con amore, va vissuta con impegno e fedeltà. In tal senso si realizza l'abitudine proclamata da Gesù. Viati coloro che ascoltano la parola di Dio e la mettono in pratica. La mula in ginocchio Un altro prodigio meraviglioso successe ancora a Rimini quando Sant'Antonio predicò e ammaestrò il popolo sull'ecarestia. Ci fu uno degli eretici che si oppose decisamente alle verità della presenza reale di Gesù vivo e vero nell'ostia consacrata. Non mi bastano le affermazioni di parole, diceva l'eretico, ma voglio i fatti. Perché non facciamo una sfida? Frate Antonio, venga in piazza con l'ostia insorio e con l'ostia consacrata e io verrò a mettere un cesto di biada fresca vicino a lui e porterò una mula affamata. Ebbene, se la mula anziché buttarsi sulla biada si fermerà e si prosterà davanti all'ostia consacrata allora ha ragione frate Antonio e io crederò altrimenti ho ragione io a negare la presenza reale di Gesù nell'ostia. A modo suo, nella testa dell'eretico, il ragionamento filava e non faceva una grinza. Per credere voleva vedere un prodigio, come diceva lui, voleva Dio ai suoi ordini e comandi. È la cecità di molti questa. Non è forse frequente il caso di chi perde la fede solo perché non ha ottenuto quel che pretendeva? Quante volte anche noi non mettiamo condizioni nel servire Dio, nel credere in Lui? Se ottengo questo, se mi succederà quest'altro, se riuscirà quella cosa, allora crederò. È la solita incredulità di Sant'Omaso Apostolo, scolpita dalle parole di Gesù. Perché mi hai veduto, hai creduto, biati quelli che pur non avendo visto, crederanno. Sant'Antonio venne a conoscere il ragionamento dell'eretico. L'eretico riflettè, pregò e accettò la sfida con la mula affamata. D'accordo. Si stabilì l'ora e al momento convenuto, dinanzi a tanta folla radunata per assistere alla scena, Sant'Antonio si presentò con l'ostia consacrata nello stensorio eucaristico e si mise vicino al cesto di biada fresca. L'eretico aveva tenuto la mula a digiuna per tre giorni. La fame, quindi, era terribile. Ebbene, quando l'eretico portò la mula avanti, si vide benissimo da tutti che essa degnò appena appena di uno sguardo la biada del cesto, mentre si fermò diritta davanti a Sant'Antonio. Poi piegò le zampe, si pose in ginocchio e abbassò la testa verso terra in segno di adorazione. La scena colpì e commosse tutti. Quella mula dava a tutti una lezione di fede nella presenza reale di Gesù, vivo e vero nell'ostia consacrata. L'eretico, confuso e sconvolto, scoppiò in lacrime. Sant'Antonio, sì, era la bocca della verità. Certo, l'insegnamento che ci viene dal comportamento della mula, ricordiamo anche l'episodio dell'asina di Balaam, è veramente importante e pratico per noi. Anzitutto il comportamento della mula ci aiuta a confermare la nostra fede nella verità divina della presenza di Gesù in corpo, sangue, anima e divinità dietro l'apparenza dell'ostia consacrata. Inoltre dobbiamo ancora imparare il rispetto e l'adorazione che si debbono all'Eucaristia. Non è forse facile che noi di fronte al tabernacolo manchiamo di rispetto e di riverenza? Quante volte stiamo davanti all'Eucaristia distratti e annoiati, scomposti e indifferenti? Quante volte ci presentiamo all'altare, alla Santa Comunione svagati e incoscienti, vestiti indecentemente, magari con le mani in tasca e senza fare il minimo segno di riverenza? La lezione di quella mula prostrata dinanzi all'Eucaristia. Ma che dire ancora, è peggio di ogni altra cosa? Non si arriva forse oggi ad accostarsi alla Santa Comunione con l'anima in peccato mortale? Si è diffuso come una peste questo insegnamento diabolico che va contro la parola di Dio e contro la costante dottrina della Chiesa. San Paolo scriveva che chi si accosta a ricevere l'Eucaristia senza la grazia di Dio mangia la propria condanna. Commette un orribile sacrilegio, precisa la Chiesa. E il Magistero della Chiesa ha sempre insegnato che chi ha commesso il peccato mortale, prima di ricevere l'Eucaristia, deve ogni volta ricevere la soluzione sacramentale nella confessione, perché non basta l'atto di contrizione con il proposito di confessarsi dopo. Ascoltiamo e seguiamo la Chiesa, unica nostra maestra infallibile, e lasciamo andare gli eretici di ieri e di oggi che ci portano soltanto sulla via della perdizione. Maestro di teologia Sant'Antonio predicava per tutta l'Emilia e la Romagna, era instancabile nel camminare a piedi per paesi e paesi, era ardente nel toccare i cuori e zelante nella maestrare, colpiva gli errori e martellava contro le eresie con la sapienza viva della parola di Dio. Gli eretici più ostinati, è ovvio, lo temevano, non potevano assolutamente competere con frate Antonio. Capitava qui quel che capitò a Santo Stefano, protomartire, quando smascherava gli errori degli scribi e dei farisei, i quali non potevano resistere alla sapienza ispirata con cui egli parlava. I superiori di Sant'Antonio fecero una riflessione molto importante per la pastorale della predicazione. Essi si resero conto che era necessario far preparare altri frati alla predicazione per combattere le eresie che dilagavano da ogni parte e scoprirono proprio in frate Antonio il maestro dotto e santo per formare gli studenti di teologia. Tale progetto dovette piacere anche a San Francesco, quel quale scrisse di suo pugno un biglietto a frate Antonio per autorizzarlo a insegnare teologia. È un biglietto preziosissimo che dice così A frate Antonio mio vescovo, frate Francesco, augura salute. Mi piace che tu legga Sacra Teologia ai frati, purché per si fatto studio non estinguano in loro lo spirito della santa orazione e devozione come prescrive la regola. Sta bene. Un particolare. Perché San Francesco chiama mio vescovo frate Antonio? Probabilmente perché lo considera realmente un maestro nella sacra dottrina al quale appunto affidare i frati da preparare al ministero della parola di Dio. Del resto la sapienza di San Francesco d'Assisi era così elevata che poteva misurare e apprezzare appieno il valore della dottrina di Sant'Antonio. Ricordiamo quel frate teologo dei predicatori, il quale una volta sottopose a San Francesco qualche dubbio e ne ebbe risposte così sapienti da esclamare Fratelli miei, la teologia di quest'uomo, fondata sulla purezza e sulla contemplazione, vola come un'aquila. Invece la nostra scienza striscia col ventre per terra. Celano. Lo studentato di teologia era a Bologna. Sant'Antonio si recò prima a Vercelli dove sostò per alcuni mesi con il celebre maestro di teologia mistica padre Tommaso Gallo. Poi passò a Bologna nel 1223 per l'insegnamento che portò avanti fino a che non gli giunse l'ordine di recarsi in Francia dove l'eresia degli albigesi stava facendo stragi della fede e della morale. In terra di Francia. Nel 1224 Sant'Antonio venne mandato in Francia, terra prediletta del serafico padre San Francesco per il culto speciale che Ivi si prestava all'Eucaristia. Per tre anni Sant'Antonio girò la Francia insegnando teologia, predicando e operando prodigi. Egli stette a Montpellier dove insegnò teologia poi andò a Tolosa e in seguito si portò fra le montagne del Velai, nel Berri, ad Arlais, a Limoges, nelle grotte di Brive e infine a Marsiglia. Le fatiche apostoliche di Sant'Antonio nella terra di Francia furono enormi dalla cattedra e dal pulpito, nelle piazze e nelle chiese, per le vie nelle case, con i colloqui privati e negli incontri occasionali. Il santo fu instancabile nel evangelizzare e nel presentare la dottrina della chiesa, smascherando e colpendo l'errore che dilagava già senza freni. Sant'Antonio chiamava gli eretici volpi per l'astuzia e l'inganno con cui interpretano la Sacra Scrittura e i carpiscono la buona fede del popolo che non sa difendersi dalle loro insidie. Gli eretici si presentano sempre in veste di salvatori della chiesa da riformare, come dicono, secondo la loro interpretazione della scrittura, senza tenere in conto alcuna il magistero e la tradizione della chiesa. È sempre stato ed è sempre così. Oggi, come ieri, gli eretici vestono i panni dell'amore alla chiesa e all'uomo da salvare liberandolo, finalmente da errori e tabù, sbagli e oppressioni secolari o millenari. Gli eretici di oggi, ad esempio, hanno scoperto e vanno gridando che Gesù non è Dio, che Maria non è madre di Dio, né vergine, che il demonio non esiste, che il peccato mortale è specie sessuale, è solo un tabù da seppellire per sempre, che l'adulterio e il divorzio, i rapporti prematrimoniali e l'omosessualità, la masturbazione e ogni altra l'ordura, sono soltanto cose naturali, che il purgatorio è una favola e così il peccato originale, la resurrezione di Cristo, la presenza reale di Gesù nell'Eucarestia. Volpi luciferine, gli eretici oggi sanno sempre mimetizzarsi, in particolare operando attraverso i mass media, le editrici, anche cattoliche, i gruppi di base, alcune correnti ecclesiali, essi si presentano come superuomini, portatori di verità, di libertà, di gioia, ma in realtà, come diceva già San Pietro, il primo vicario di Cristo, essi sono soltanto fonti senza acqua, nubi agitate dalla bufera, dense di tenebre, pronunciando discorsi gonfi di vanità, adescano con le concupiscenze della carne, con le dissolutezze, promettono loro libertà, mentre essi stessi sono schiavi della corruzione. Il linguaggio di Sant'Antonio non era meno ardente di quello di San Pietro o di quello di San Paolo nel colpire le resie e nello smascherare gli eretici. Affascinante nel modo di porgere e di illustrare la parola di Dio, Sant'Antonio attirava le folle in maniera, si può dire, irresistibile, e se il nemico si opponeva in molti modi per impedire il bene della sua predicazione, Sant'Antonio sapeva batterlo anche con i prodigi che Dio gli concedeva di compiere. Così, una volta, mentre il popolo era tutto assorto nell'ascolto della predica di Sant'Antonio, entrò all'improvviso in chiesa un corriere, aveva una lettera in mano e gridava il nome di una donna a cui consegnare la lettera, con la notizia che il figlio era stato ucciso a tradimento. A quella notizia la donna svenne. Ci fu una distrazione generale e un brusio senza fine. Sant'Antonio si interruppe per qualche attimo, ma subito, illuminato dall'alto, gridò che nulla era vero di quanto scritto nella lettera e che si trattava soltanto di una manovra per interrompere la predicazione. Tra pochi momenti, disse il santo, vedrete arrivare in chiesa proprio quel giovane che sarebbe stato ucciso. E di fatti avvenne proprio così. Un'altra volta Sant'Antonio doveva predicare a una grande folla venuta da molti paesi e radunata all'aperto in una piccola valle chiamata Balletta delle Arene. Ma ecco che appena il santo iniziò la predica, grosse nuvole cominciarono a riempire il cielo e nell'atmosfera si avvertì subito l'arrivo dell'acquazzone. Una certa apprezzione cominciò ad agitare la gente. Sant'Antonio non si scompose e si affrettò ad assicurare che nessuno degli ascoltatori sarebbe stato toccato dall'acqua. De lì a poco, infatti, si rovesciò moltissima acqua sulla terra circostante ma quella valletta delle Arene e tutte le persone non furono toccate neppure da una goccia d'acqua. Il notaio, le rane, il salterio. Altri tre episodi confermano ancora più i poteri taumaturgici di Sant'Antonio sulle persone, sugli animali e sulle cose. Sant'Antonio vede in un notaio un futuro martire della fede. Fece zittire le rane che gracidavano. Ritrovò il salterio che gli era stato portato via. Durante la permanenza alle pui, Sant'Antonio, ogni volta che incontrava un notaio, lo riveriva con un inchino profondo. Il notaio, purtroppo, era uno di quei cristiani che fanno disonore a Cristo e alla Chiesa perché menava vita scandalosa. Per questo, l'inchino che Sant'Antonio faceva davanti a quel notaio, ogni volta che lo incontrava, non poteva che apparire troppo stridente. Lo stesso notaio fece presto a considerare la cosa come con animo malevole, ritenendo che quell'inchino del santo fosse una beffa o un gesto sarcastico. Per questo cercava di evitare gli incontri con Sant'Antonio, cambiando strada ogni qualvolta lo vedeva da lontano. Un giorno, però, senza volerlo, i due si trovarono l'uno di fronte all'altro e Sant'Antonio subito fece un profondo inchino al notaio. Ma appena il notaio vide quell'inchino, reagì con vigore dicendo a Sant'Antonio «Se non fosse per il timor di Dio, io ti ucciderei. Si può sapere che male ti ho fatto, perché ogni volta che ti incontro debbo ricevere da te questo gesto di affronto?» Sant'Antonio gli rispose subito con serenità «Lungi da me, fratello, ogni gesto di affronto nei tuoi riguardi. Al contrario, ti dico che io vedo in te un futuro martire di Cristo. Quanto ho desiderato io il martirio, ma a me non è stato concesso. A te, invece, sarà concesso. A queste parole del santo, il notaio si calmò, ma poi scoppiò in una bella risata, del tutto incredulo nei riguardi di una profezia del genere. E invece, non molto tempo dopo, il notaio, recatosi a Gerusalemme con il vescovo di Leipui, si trasformò talmente colà che cominciò a predicare pubblicamente la divinità di Gesù. Venne preso, incarcerato, torturato e infine ucciso per la fede, proprio come Sant'Antonio aveva predetto. L'episodio delle rane avvenne a Montpellier durante una lezione di teologia che Sant'Antonio stava impartendo ai frati. In uno stagno lì vicino, un gruppetto di rane cominciò a gracidare, disturbando sia il maestro che i discepoli. Che fare? Sant'Antonio si affacciò alla finestra e comandò le rane di zittire fino al termine della lezione. Immediatamente, le rane tacquero, con meraviglia di tutti i frati, che compresero bene quali poteri straordinari avvesse Sant'Antonio anche sugli animali, a somiglianza del serafico padre che, a sua volta, fece zittire gli uccelli e amansì il feroce lupo di Gubbio. L'episodio del salterio avvenne anch'esso a Montpellier. Sant'Antonio spiegava ai frati i salmi servendosi di un salterio da lui stesso annotato per le elezioni. Ebbene, un novizio del convento si sentì talmente attratto da quel salterio di Sant'Antonio che un giorno se lo prese dalla cella del santo e fuggì via dal convento, sicuro di possedere qualcosa che valeva tanto a quei tempi. Appena il santo si accorse della sparizione del libro, si mise subito in preghiera. Che cosa successe? Successe che quel giovane novizio, mentre fuggiva nei pressi di un fiume, vide un orribile demonio che gli si parò dinanzi e gli impose di tornare indietro a restituire il salterio. Atterrito e pentito, il novizio tornò indietro, si presentò a Sant'Antonio e gli restituì il salterio. Da questo episodio si capisce perché Sant'Antonio viene considerato il santo che fa ritrovare le cose smarrite, aiutando e confortando tante persone che vengono a trovarsi in situazioni di grave necessità proprio per lo smarrimento di oggetti e cose. Il bimbo morto e il pazzerello Ascoltare le prediche di Sant'Antonio era una consolazione per tutti. La gente accorreva anche da lontano per ascoltarlo. Quando si sapeva dove egli era e dove predicava, si facevano anche grossi sacrifici per non perdersi la sua predica. Un giorno una giovane mamma che aveva un figlio letto piccolino lasciò il bimbo addormentato nella culla e corse ad ascoltare la predica di Sant'Antonio per nutrirsi di quella parola di Dio spiegata così bene dal santo. Quando tornò a casa, però, la mamma trovò il bambino soffocato sotto le coperte. Dolore ed ispirazione la invasero. Che fare? Il bimbo era là, davanti a lei, senza più respiro, esanime. La donna ebbe un'ispirazione. Corre da Sant'Antonio, lo trova, si butta in ginocchio davanti a lui e gli racconta, più con le lacrime e singhiozzi che con le parole, la disgrazia del suo bimbo. Sant'Antonio l'ascolta, si commuove, anche egli ripensando forse la scena evangelica della povera vedova di Naim. Prega e dice la mamma desolata queste parole di conforto. Torna pure a casa, perché il Signore ti consolerà per tuo figlio. La donna torna a casa, fiduciosa, anche se tremante e trepidante, e qui scoppia la sua gioia nel trovare il bambino vivo, sveglio e sorridente. Quanti non dovessero essere i baci della mamma su quel volto di angioletto ritornato in vita? Leggendo questo episodio, che cosa dobbiamo dire oggi di quelle mamme che anziché la vita vogliono la morte dei loro bimbi chiusi nel grembo materno? Come non ridire di fronte alle file di mamma che nell'ospedale aspettano il loro turno per farsi uccidere il bambino che portano in grembo? Mamme snaturate e disgraziate, povere vittime di una società criminale che porta avanti trionfalisticamente la cultura della morte, dell'odio alla vita e alla famiglia, della schiavitù più abietta alle passioni dell'uomo, le più animalesche e vergognose. Povera nostra società divorzista, abortista, pansessualista. Un altro episodio ancora in terra di Francia mise in risalto il potere taumaturgico del nostro santo per gli ammalati. C'era un giovane handicappato, sofferente, sembra di schizofrenia e di idiozia. Durante una predica di Sant'Antonio egli si mise a disturbare tutti con gesti strani e parole senza senso. Che cosa fare? Sant'Antonio lo riprese raccomandandogli di starsene quieto, ma quegli per tutta risposta disse che avrebbe smesso solo se il santo gli dava il suo cordone. Sant'Antonio volle accontentarlo, si sciolse il cordone e glielo diede. appena il giovane ebbe il cordone se lo cinse e immediatamente si trovò libero da ogni male. Sant'Antonio, benefattore dei malati e sofferenti, quanti mali ha guarito, quante lacrime ha asciugato, quanti sorrisi ha fatto rifiorire nel cuore e sulle labbra di molti. Il santo nel confessionale Qual è il frutto più bello della predicazione? È la confessione. Quando la predica spinge la conversione quindi alla confessione sacramentale è segno che è feconda. Lo scopo dell'emangelizzazione infatti è muovere gli animi alla conversione, portare gli uomini alla benitenza. Ebbene, la predicazione di Sant'Antonio non solo otteneva questo scopo ma impegnava lo stesso santo ad applicarsi al ministero del confessionale. Il lavoro di Sant'Antonio nel confessare può essere stato meno appariscente ma non meno consistente della predicazione. Certamente saranno state tante le ore di confessionale e il dono della scrutazione dei cuori dovette attirare ancora di più le masse di fedeli che chiedevano di confessarsi da Sant'Antonio. Chissà quanta penitenza avrà dovuto fare Sant'Antonio nel confessare per lunghe ore dopo le fatiche espossanti dei lunghi viaggi a piedi e delle ardenti predicazioni. Intanto era bellissimo semplice e luminoso il suo insegnamento sulla confessione era una catechesi chiara e solida senza equivoci o concetti contorti tutti dovevano e potevano capire la dottrina della Chiesa su questo sacramento così fondamentale per la vita cristiana. È forse ad un uomo che vi confessate chiedeva il santo non ad un uomo come uomo ma ad un uomo quale rappresentante di Dio. Come sei facile a confessarti spiegava ancora così lo devi essere a correggerti dei peccati confessati ed invece vi sono di quelli che si confessano e non si emendano mai ma a chi si presenta con finzione al sacerdote chi tace qualche peccato o qualche circostanza di quello si espone al pericolo di eterna riprovazione. Il santo passa poi a illustrare le caratteristiche di una buona confessione. La confessione deve essere completa deve essere commossa per l'abbondanza delle lacrime di pentimento larga per la vastità del perdono che dobbiamo concedere a tutti coloro che ci hanno offeso e per la completa restituzione di quanto abbiamo mal tolto ad altri e per il dolore che si deve estendere a tutti i peccati mortali. La confessione deve essere solitaria perché è fatta privatamente segreta perché solo il sacerdote la deve ricevere e conservare sotto sigillo sacramentale occulta perché nessuno e in nessun modo può violare questo segreto. Molto opportunatamente il santo insiste in particolare sull'elemento più essenziale di ogni confessione ossia il vero e sincero pentimento. Il dolore dice Sant'Antonio la contrizione dei peccati commessi si deve estendere a tutti e a ciascun peccato mortale in modo che si abbia maggior contrizione per un peccato commesso che se si fossero perdute tutte le ricchezze di questo mondo poiché perdere la grazia di Gesù Cristo vale quanto perdere il più degno il più caro il più prezioso degli oggetti. Confessarsi spesso e confessarsi bene queste due cose Sant'Antonio praticava e predicava egli arrivava a confessarsi anche tutti i giorni prima di celebrare la Santa Messa non è mai bastante la purezza per salire l'altare per accogliere l'agnello immacolato nel proprio cuore questo esempio del santo ci spinga ad amare molto questo sacramento confessandoci fedelmente almeno ogni settimana. il foglio bianco anche nel confessionale Sant'Antonio esercitò il potere dei miracoli in maniera così sorprendente ed efficace da costituire una lezione incomparabilmente più significativa e convincente di qualunque insegnamento verbale a dimostrare ad esempio l'importanza e il potere della contrizione per ottenere la perfetta purificazione dell'anima un giorno Sant'Antonio operò questo prodigio era andato a confessarsi da lui un giovane che aveva molto peccato il giovane voleva iniziare l'accusa delle colpe ma le lacrime abbondanti e singhiozzi gli impedivano di parlare anche perché temeva di non poter essere perdonato per la gravità dei peccati commessi il santo cercò con tutta dolcezza di calmarlo e di farlo parlare ma si rese conto che i singhiozzi di quel povero giovane erano irrefrenabili allora gli disse di andare a procurarsi un foglio di carta e di scrivere su di esso l'elenco dei suoi peccati il giovane obbedì si procurò un foglio bianco e vi scrisse sopra tutte le sue colpe tornò quindi dal santo e gli consegnò il foglio Sant'Antonio iniziò a leggere il foglio mentre il giovane era tutto tremante ebbene man mano che il santo leggeva lo scritto scompariva dal foglio e alla fine il foglio ritornò completamente bianco a vedere ciò il giovane comprese senza più dubbi che la confessione fatta con sincero pentimento ottiene la perfetta purificazione dell'anima anche se si fossero commessi peccati enormi e orribili certo Sant'Antonio era paterno era dolce e comprensivo con i penitenti ma non trascurava mai di mettere il penitente di fronte alle responsabilità delle colpe richiamando le parole forti di Gesù per scuotere e impegnare ad una fedeltà pura e senza compromessi una volta infatti un giovane si confessò dal santo e si accusò che in un eccesso di ira aveva tirato un calcio la propria madre Sant'Antonio si rattristò e disse a quel giovane le parole forti di Gesù se il tuo occhio chiede occasione di scandalo cavalo se il tuo piede chiede occasione di scandalo troncalo per la gravità di quel calcio tirato a colei che è la madre il piede meriterebbe di essere troncato così ammonì il santo quel giovane al quale impose una salutare penitenza prima di dargli la soluzione sacramentale il giovane però rimase così colpito dalle parole di Sant'Antonio che tornando a casa maturò subito un progetto orribile ossia quello di prendere un'ascia e di troncarsi il piede che aveva osato colpire la propria madre immaginarsi naturalmente l'atroce spettacolo e il dolore non solo del giovane ma anche della madre e degli altri parenti accorsi alle grida appena la mamma riuscì a capire il perché di questo gesto insano si precipitò da Sant'Antonio per raccontargli l'accaduto e pregarlo con la disperazione nel cuore e nelle parole di voler provvedere il santo si impietosì e si recò al capezzale del giovane qui si mise in preghiera poi prese il piede staccato lo riunì alla gamba facendovi un segno di croce e all'istante non solo il piede si riunì alla gamba amputata ma si riunì in modo così perfetto da non restare neppure una cicatrice l'apparizione di San Francesco la sera del 3 ottobre 1226 San Francesco morì a Santa Maria degli Angeli Sant'Antonio si trovava allora in Francia e non poté né vedere né salutare per l'ultima volta il padre Serafico fu lo stesso Serafico padre invece a benedire e a salutare i frati di Francia prima di lasciare questa terra infatti San Francesco apparve ai frati radunati in un capitolo ad Arlè apparve durante una riunione mentre Sant'Antonio stava parlando a tutti i frati questo celebre episodio è riportato da San Bonaventura nella leggenda maggiore durante il capitolo di Arlè Antonio allora insigne il predicatore ed ora glorioso confessore di Cristo stava predicando ai frati servendosi come tema dell'iscrizione posta sulla croce Gesù Nazareno re dei Giudei ebbene un frate di virtù sperimentata di nome Monaldo si mise per ispirazione divina a guardare verso la porta della sala capitolare e vide con i propri occhi il beato Francesco che stando librato nell'aria con le mani stese in forma di croce benediceva i frati tutti i frati a loro volta si sentirono ripieni di una consolazione spirituale così grande e così insolita che la ritennero una testimonianza con la quale lo spirito le assicurava che il padre santo era veramente in mezzo a loro il fatto che San Francesco sia apparso proprio mentre Sant'Antonio stava predicando ai frati non è senza un particolare significato c'è da pensare che quella speciale benedizione scendesse a confermare ancor più la parola di vita che Sant'Antonio stava comunicando ai confratelli la bilocazione di San Francesco inoltre serve a richiamare una bilocazione che anche Sant'Antonio ebbe stando in Francia una sera mentre si trovava sul pulpito e predicava a San Pierre dei Quairox il santo si ricordò che doveva cantare il versetto alleluatico nel coro della sua comunità a Montpellier aveva dimenticato di avvertire qualcuno perché si preparasse e nessuno quindi poteva essere pronto a sostituirlo che cosa avvenne allora durante un intervallo della predica il santo si sedette si coprì la faccia con il cappuccio e rimase immobile per alcuni minuti nello stesso tempo i frati raccolti in coro lo videro comparire in mezzo a loro e a cantare il versetto la cosa venne poi controllata e non si poté dubitare di questa bilocazione descritta nel libro dei miracoli la bilocazione si sa è un fenomeno mistico straordinario solo Dio può operare questa cosa umanamente impossibile e ciò avviene ogni tanto nella vita dei più celebri santi come leggiamo ad esempio di Sant'Alfonso dell'Iguori di San Giovanni Bosco e di San Pio da Pietrelcina sia tutto all'ode della potenza e sapienza di Dio che si glorifica nei suoi figli più eletti il ritorno di Sant'Antonio in Italia avvenne alla morte del serafico padre Francesco che passò dalla terra al cielo ai primi di ottobre del 1226 in quel tempo Sant'Antonio era custode della custodia di Limoges e per questo dovette partecipare con gli altri provinciali custodi al capitolo generale che si tenne in assisi per l'elezione del successore di San Francesco Grazie Grazie